ciao a tutti amici e amiche di ricette per cucinare oggi prepariamo l'insalata di pesce abbiamo bisogno di una piccola piove che ho già fatto bollire in acqua calda salata un filetto di pesce persico 200 grammi di mazzancolle due coste di sedano un mazzetto di prezzemolo un peperone giallo due carote un cespo di insalata belga e due spicchi d'aglio poi condiamo tutto quanto con olio sale pepe e limone tagliamo le verdure a pezzetti appunto vediamo la carota l'ho tagliata a listarelle così il radicchio belga l'ho tagliato a tocchetti come anche ho fatto con il peperone invece il sedano l'ho tagliato a fettine sottili tagliamo a fettine la nostra piove quindi prima la dividiamo a metà poi la dividiamo i tentacoli e poi ogni tentacolo lo tagliamo a fettine cuociamo il filetto di persico su una piastra tagliamo a pezzi il filetto di persico cotto mettiamo a cuocere a vapore le mazzancolle tritiamo il prezzemolo schiacciamo l'aglio ora condiamo il tutto con olio a crudo sale e pepe grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti